Allora, noi il punto centrale che stiamo a discutere oggi è appunto quello del progetto preliminare dell'autostrada Orte Mestre. Perché noi siamo qua oggi, vorrei ricordarlo? Perché il Movimento 5 Stelle da oltre un anno sta conducendo una battaglia, una battaglia per fermare questo mostro da 10 miliardi e soprattutto perché il Movimento 5 Stelle è riuscito a far calendarizzare oggi in Aula questa mozione. Siamo contenti che sulla battaglia si sia accodata SEL e però sentire ancora i membri della maggioranza, il PD, dire che abbiamo bisogno di una riflessione approfondita. Io ricordo che voi siete al Governo da due anni. Io non so quanti anni ancora ci vorranno per riflettere a modo sulla questione. Per noi bisogna decidere adesso. C'è da decidere adesso? È un'occasione. Sento il Ministro del Rio che parla di rivedere appunto la legge obiettivo e tutte le infrastrutture presenti. Bene, questa è l'occasione giusta per intervenire con questa mozione. Però voglio venire incontro a quanti ancora pensano che, forse ingenuamente o forse con uno schema mentale ancora da dopoguerra, che nel bene o nel male questo tipo di infrastrutture portino ancora lavoro. E allora giochiamo a ragionare al contrario e vediamo quali possono essere i motivi per dire sì allo scempio dell'Orte Mestre. Manca forse un'autostrada che colleghi esattamente Orte con Mestre? Non proprio, perché infatti esiste già la superstrada E45 che collega il cuore dell'Umbria con Ravenna, mentre da Ravenna a Mestre esiste già la strada statale 309 a Romea. Il progetto prevede infatti un adeguamento della E45 trasformandola da superstrada ad autostrada a pagamento, mentre da Ravenna a Mestre non si prevede un adeguamento della Romea che pure è tra le strade più pericolose d'Italia, ne avrebbe bisogno. Si prevede invece un nuovo asse a quattro corsie completamente nuovo che viaggia parallelo alla Romea. Consumo suolo sarebbe stimato in 3 milioni e 300 mila metri quadrati di terreno per la quasi totalità agricolo ed il tracciato autostradale andrebbe ad interessare, 11 mila ettari di siti di interesse comunitario SIC, 5 mila 800 zone a protezione speciale ZPS e 8 mila e 300 ettari di parchi regionali. Vabbè, ma vado avanti con questo ragionamento. Allora sarà forse perché il percorso già esistente è veramente utile ma è il collasso? Forse l'asse esistente è completamente congestionato e non sostiene più adeguatamente i livelli di traffico? Non proprio, perché stando a quanto riportato da associazioni e comitati, dati del traffico commerciale che interessa ad esempio la Romea sarebbero crollati al 2008 del circa 30% e registrerebbe attualmente i livelli di traffico bassissimi di circa 15-18 mila veicoli al giorno. Bisogna piuttosto riflettere che sul fatto che nel periodo invernale la circolazione è resa difficile dalle talvolta abbondanti nevicati e dalla presenza di ghiaccio. Inoltre, a causa del numero elevato di autotreni e altri mezzi pesanti in generale che vi transitano e del ghiaccio nei mesi invernali e probabilmente della cattiva qualità dei materiali usati, il fondo stradale è spesso notevolmente dissestato e necessita di continui lavori di manutenzione che richiedono quindi la chiusura di parti di strada o di carreggiata. Sul business di questa autostrada e dell'asfalto dell'Ai45 si sono già due fascicoli di inchiesta aperti dalla Procura di Forlì e dalla Procura di Arezzo che stanno passando al setaccio tutti gli appalti di lavori per 15 milioni di euro dal 2010 al 2014 con l'ipotesi accusatoria di truffa aggravata ai danni dello Stato e attentato alla sicurezza dei trasporti. Quindi siamo proprio sicuri che trasformare una superstrada in autostrada posso risolvere tutto questo. Nella mozione 5 Stelle che stiamo discutendo si chiede appunto di fermare la nuova autostrada ma di sistemare le strade già esistenti, le 45 e la Romea. Forse allora sarà che dobbiamo costruire quest'opera perché ce lo chiede l'Europa. No, non è neppure questo il motivo. Qualcuno per caso ricorda quando nel 2013 Lupi aveva trionfalmente dichiarato che la Orte Mestre era inserita nei corridoi europei TNT, ma la Commissione europea l'aveva clamorosamente smentito. E allora quale potrà mai essere il motivo per cui si vuole costruire questa lingua di asfalto di circa 400 chilometri che attraverserà cinque regioni, come è stato ricordato più volte? Ce lo spiegano le intercettazioni dell'inchiesta a grandi opere. Il primo fautore di questo mostro d'asfalto è Anas, titolare dell'opera, ed in particolare il suo presidente Piero Ciucci, ovvero colui che ha giustificato tranquillamente il suo doppio incarico e doppio compenso come presidente e direttore. Colui che ritiene dovuto una buona uscita da 1.800.000 euro. Colui che non si scompone di fronte al crollo di un viadotto appena inaugurato sulla Grigento Palermo e neppure di fronte alla morte di un operaio nel crollo di un altro viadotto sulla Salerno Reggio Calabria in un cantiere, guarda caso, affidato alla direzione dei lavori di Stefano Perotti. Per intenderci Ciucci non risulta indagato in questa vicenda, ma gli uffici di Anas sono stati perquisiti durante le indagini perché diversi appalti, finiti in mano alla SPM Consulting di Stefano Perotti, sono direttamente collegati all'ente che in teoria dovrebbe essere sorvegliato al Ministero dei Trasporti. Uno di questi è proprio quello della Orte Mestre. Perotti, ricordiamoli, ha finito gli arresti insieme a Ercolin Calza, potentissimo dirigente onnipotente del MIT e non dimentichiamoci dell'amico dell'ex Ministro Luppi, cioè Vito Bonsignore, ex eurodeputato, fondatore di NCD, nonché proponente dell'infrastruttura insieme all'ANAS, come rappresentante il Consorzio di Imprese guidato dalla Jeffy Polding, società di Bonsignore stesso, nata a Torino nel 2003. Vito Bonsignore è naturalmente indagato dalla Procura di Firenze e interessato perché è investitore al progetto Orte Mestre, che transitava, come al solito, per gli uffici di un certo in Calza. Stando all'ordinanza firmata dal GIP, non solo in Calza avrebbe garantito un favorevole iter delle procedure amministrative relative al finanziamento dell'opera e all'avvio allo svolgimento dei lavori, ma avrebbe anche assicurato un trattamento di favore al Consorzio che propone il project financing dell'opera. Il tutto in cambio di una promessa, della promessa da parte della società consortile di affidare l'incarico di direzione dei lavori a Stefano Perrotti, col quale in Calza aveva instaurato un rapporto corruttivo. Nell'intercettazione appare chiaro l'affacendarsi di Ercoli in Calza e Vito Bonsignore, che arrivavano anche a controllare il Parlamento con la presentazione e l'approvazione di emendamenti per spianare la strada a quest'opera. Per semplificare, se ancora non fosse a tutti chiaro, sono i 10 miliardi in ballo il motivo per cui quest'opera si deve fare a tutti i costi per voi, fondi che permettono un ampissimo margine di manovre ai giochi sporchi. Bisogna inoltre considerare che quasi 2 miliardi su 10, come ha ricordato anche la collega Spessotto, sono fondi pubblici concessi in defiscalizzazioni. L'assurda defiscalizzazione dopo la bocciatura della Corte dei Conti è stata naturalmente confermata da Renzi e Lupi con il decreto Sblocchi Italia. I restanti 8 miliardi dovrebbero essere privati, e dico dovrebbero, perché in realtà c'è la truffa del project financing all'italiana, dove per i concessionari non c'è alcun rischio di impresa. E se si va in perdita, naturalmente ci pensa lo Stato con aiutini e aumenti di tariffe. E guarda caso, puntualmente accade di andare in perdita grazie ai contratti scritti già apposta per dimostrare cali di traffico. E poi con lo stesso sistema in calza, e lo scandalo grandi opere la conferma, abbiamo visto che il giochino consiste nel corso della costruzione, nel gonfiare gli appalti per lavori extra e sfruttare o rubare altri soldi pubblici dei cittadini. Quindi, detto ciò, siamo proprio sicuri di voler andare incontro a questo copione già scritto. Questo è il primo vero e proprio banco di prova del neoministro delle infrastrutture del Rio. Per noi è ora di fare pulizia, a partire da quest'opera, questa grande opera inutile. E già che ci sono, ne approfitto, dato che siamo qua in discussione generale, per consigliare anche altri nomi su cui fare pulizia all'interno del Ministero. Penso a Signorini, il dirigente comunque del Ministero, Pappa e Ciccia, potremmo dire, con in calza, si è spalleggiato sugli incarichi per anni. Penso anche a Nencini, Vice Ministro dei Trasporti, ricordiamolo, Vice Ministro dei Trasporti, Lupi, l'ex Ministro, si è dimesso, lui naturalmente non sapeva niente, Nencini. E ricordiamolo, è pure condannato a restituire al Parlamento europeo 456 mila euro. Dalle dichiarazioni pubbliche, che sinceramente non ho sentito in quest'Aula, di alcuni esponenti del PD, pare che l'orientamento sia ormai quello di escludere la orte maestre dalla lista delle opere strategiche. Venendo incontro, quindi, alla richiesta che porta avanti il Movimento 5 Stelle da oltre un anno bene. Noi siamo felici se questo verrà fatto, però vogliamo vedere la prova. Quindi chiediamo che questa settimana si concluda l'iter di queste emozioni che sono state presentate e che quindi venga presa una posizione ufficiale certa di contrarietà per quest'opera, questo mostro di cemento da 10 miliardi. Grazie.